Il progetto esecutivo per la realizzazione del distretto Casa della Salute di San Paolo è pronto da oltre un anno. Il permesso per costruire pure. A mancare è la gara d'appalto per i lavori, ma senza la copertura finanziaria pari a 4 milioni e 300 mila euro, non si può fare. Sono soldi che metterà il governo attraverso l'articolo 20 della legge 67-1988, strumento normativo con cui negli anni sono stati finanziati numerosi presidi sanitari in tutta Italia. Manca però all'appello il suo rifinanziamento. Per questo stamani nel corso della visita nelle aree Covid allestite al Creaf e nelle aree del Santo Stefano, il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto una decisa accelerata al ministro della Salute Roberto Speranza. Spero che sia finita la stagione dei tagli in Parlamento durante le leggi di stabilità, ma che ci sia un investimento costante, una sanità pubblica che ha dimostrato di essere il presidio fondamentale di fronte a un macello come quello è stato il Covid. Nei giorni scorsi da Roma sono arrivate delle richieste di integrazione della documentazione a cui l'Asle ha già risposto e questo fa pensare che non manchi molto allo sblocco dell'opera. Fanno parte di questa partita anche gli oltre 9 milioni di euro che insieme ai 10 già stanziati dal Cipe serviranno per costruire la palazzina aggiuntiva dell'ospedale con altri 112 posti letto. A differenza del progetto di San Paolo che è ai nastri di partenza da un anno in attesa dello start, quello per la nuova palazzina richiede ancora qualche passaggio tecnico prima di poter andare a gara per i lavori di costruzione. A breve infatti sarà pubblicato il bando per affidare la progettazione esecutiva e inizierà l'intervento di messa in sicurezza idraulica di tutta la zona.